Tutti gli indici dell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, periodo di riferimento 18-24 febbraio, sono in miglioramento, ma il Molise resta in zona gialla, scende l'RT ora a 1,18, scende l'incidenza ogni 100.000 abitanti, pari a 592, era 809. Buoni anche i dati relativi alle ospedalizzazioni, 13,1, area medica, 7,7, terapia intensiva, entrambe sotto soia critica. Nell'ultimo bollettino Aserem ci sono invece due decessi, una donna di 88 anni di trivento e un uomo di 89 anni di guardia alfiera ricoverati in anziano fragile, 4 i ricoveri, 3 i malattie infettive, 1 in anziano fragile, 3 i dimessi, tutti dal reparto diretto dal dottore Donato Santopoli. In Contrada Tappino i degenti sono 25, 3 in terapia intensiva, 7 non vaccinati, 280 i nuovi casi, 31 positivi al molecolare, 249 all'antigenico, su 1.889 esami processati, con tasso di positività al 14,8%, ancora una volta e per fortuna più guariti che contagiati, 3,334 le persone che hanno superato il covid, 6.175 quelle ancora positive.